Ciao, come va? Tutto bene? Ah, oggi non vi porto in spa, no, vi porto in radio, no, vi porto a fare shopping, o meglio, in realtà io l'ho già fatta shopping, quindi vi porto a vedere che cosa ho comprato, perché? Perché ho detto, caspita, ho fatto il cambio stagione, eh sì, perché dall'inverno si passa l'estate e dovevo rinnovare un po' il guardaroba, perché sapete che noi donne alla fine siamo così, c'è sempre qualcosa che non va, non ci va più bene, non ci piace più tanto, insomma, allora ho detto, va bene, oggi vado, compro qualcosina e vediamo se anche voi, insomma, può piacere quello che ho acquistato. Allora, partiamo, beh, da una classica maglietta bianca, eh, questa va bene con i jeans, eh sì, perché secondo me è l'abbigliamento perfetto, t-shirt bianca e jeans. Poi, un'altra cosa che ho preso è qualcosa di meno, diciamo così, sportivo, forse un po' più casual, ed è, guardate che bella questa, questa camicetta, esatto, neanche troppo lunga, anzi corticina, di cui il colore, come vedete, sta bene anche con i pantaloni che ho indosso oggi. E quindi questo, diciamo che è una cosa un pochettino più casual e poi finiamo con una che può essere usata, boh, forse anche in qualche serata, magari qualche cena ci sta, non solo cena, ma anche fare una passeggiata magari sul lungomare, il colore ci sta anche bene con il mare, ma l'ho preso soprattutto perché, al di là che abbia le maniche lunghe, ma è leggera, insomma, mi piaceva, mi faceva impazzire, guardate che bella, a parte il solito incrocio, ma mi faceva impazzire perché secondo me questo azzurro e questo colore salmone, proprio così, stanno benissimo. Per cui, insomma, non lo so, che ne dite voi? Insomma, vi piacciono i miei acquisti, primi e acquisti, ho dovuto lasciare in realtà dei jeans, un'altra camicetta, giacchina molto interessante, bianca, che si abbottonava anche in modo diverso, ho provato dei vestiti, dovevo comprarmi una cintura, eh sì, lo so, direte voi, questa non ha più niente nel guardaroba, ma c'è sempre quel buchino nel guardaroba che deve essere praticamente occupato, e vuoi che io non lo occupi? Va bene, dai, questo era per farvi un saluto, e per dire, come sempre, che, insomma, andremo a raccontare un po' di cose interessanti. Mi piacerebbe scoprire anche qual è il vostro guardaroba, e soprattutto che cosa cambiate ogni anno, se cambiate qualcosa, e qual è il vostro colore preferito, perché secondo me voi ne avete due, o il blu o il marroncino, di lì non vi sbizzarrite, invece l'estate è fatta anche per usare e usare tanti colori. Vabbè, vedremo prossimamente come ci vestiremo. Intanto un bacio, ora vado, sì, mi tocca, devo tornare a casa, eh, io sarei stata ancora delle ore, ma mi hanno cacciato perché chiudeva, non c'è più nessuno, ciao! Eh, niente, si torna a casa, va bene così, la giornata di oggi è terminata, almeno con lo shopping, poi non è che sia shopping compulsivo, ma insomma, dobbiamo dire che ogni tanto mi lascio prendere la mano e... vabbè, vorrei prendere di tutto e di più, ma poi alla fine devo fare anche i conti, non solo con l'argent, come si dice, ma fare i conti anche e soprattutto con quanta roba ci sta nel... nel guarda roba e se non cambio guarda roba, diciamo che forse. Ma sapete perché? Perché io sono anche di quelle che non butta mai via niente, nel senso che dice sempre, ma sì, questo lo tengo, metti mai, potrebbe sempre servire, insomma, una cosa, l'altra, l'altra. E quindi poi ecco perché tutto si ammassa e diventa difficile anche separarsi dalle cose. Sì, lo so, in questo sono un pochettino, come si dice, troppo, troppo legata alle mie cose, non riesco più tanto a separarmene. Va bene, alla fine ci sta. Ricordatevi di così dirmi qual è il capo magari che avete cambiato quest'anno nel vostro armadio e quanto siete anche shopping compulsivi, mettiamola così, e quello è il vostro colore preferito di abbigliamento che avete, principalmente nell'armadio. E poi via alle danze, come si dice, e agli acquisti perché è bello, eh, comprare. Quello dico io. Ma è bello stare insieme e raccontarci tante cose, mi raccomando. Questa è la vetronella. Questa è la vetronella più accesa, no, perché lo stop dovrebbe, cioè le luci dovrebbe essere più su, il quadratino più su acceso a destra. Non so. Ho dei dubbi. Ah, tra l'altro segna anche rosso, mi sa che devo anche fare benzina, perché sennò poi me la faccio a piedi a casa. Adesso poi mi fermo, facciamo benza, come diciamo noi in gergo. Bene, ci sono quasi, eh, sono quasi arrivata al distributore, mi fermo, faccio benzina, anzi diesel, non devo sbagliarmi, e poi riparto per, verso casa. adesso io so già che questo parte, ecco, guarda dove vai, bravo, diesel, qua. Una volta vediamo far benzina, poi dopo ho imparato a farla, e quindi va bene così, mi piace, va bene, scendo. Soldi. Vado, metto. dicevo, l'importante è non sbagliarsi, come entra? E no, è per i camion, cazzo, ho sbagliato, ho sbagliato, e adesso i soldi? No, ho fatto un casino, ti ho detto che mi piaceva fare benzina, ma non lasciare i soldi agli altri, cacchio, stavo parlando con voi, non ho guardato, ho messo la pompa a 3, anche quella dei camion, e così non ci entra. Adesso devo aspettare 6 minuti, per il rimborso, e allora, siccome ne avevo mesi tanti, adesso non ho più soldi, metto solo più pochi, 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 adesso, seguite con me, altre pompe, la 4, anche perché la 3 è ancora in erogazione, devo aspettare il codice rimborso, va bene, la 4 vado, se non sia la volta buona, una volta c'è, ed è pure diesel, quindi non ho sbagliato, ma anche perché una volta, presa anche lì, dalla velocità, dalla foca, di fare benzina, ho messo la benzina nel diesel, meno male che mi sono accorta quasi subito, però, ho finito, 20 euro sono andato, mi sono accorta quasi subito, e così l'ho tolto, e poi ho detto, al tizio, del distributore, ho detto, no, ho messo la benzina nel video, adesso mio marito mi sgrida, cosa faccio, poi impallo la macchina, e lui mi ha detto, vabbè, se ne hai messo poca poca poca, ed era solo 2 euro, perché mi era accorta subito, e lui mi ha detto, va bene lo stesso, anzi, per dirla tutta, va bene, perché pulisce anche un po' quello dove c'era la benzina e il diesel, quindi, non hai creato casino, e lui mi ha detto, meno male, per una volta ce l'ho fatta, però questo, veramente, 50 euro, ma si può, così, ma non si può, vabbè, vado a aspettare il codice rimborso, e poi domani tornerò, a farmi dare i soldi, sono proprio una contola, e cioè, eh, ma parlare con voi, eh, provo, provo, cavolo, no, non sono ancora passati 6 minuti, mangio qua cena, per aspettare il rimborso, cavolo, no ragazzi, ce l'ho, il foglio, allora, vado così, perché se non sono in socchiali, non leggo, istruzione per il rimborso, su questo impianto, preme il terzo rimborso, si vede istruzioni settaminale, codice rimborso, ok, vado, stop, rimborso, codice rimborso, ma quanto è lungo, questo codice? 8, ok, 20, si, si, ho inserito, compa 3, no, adesso mi dice rifornirsi, no, sono triste, perché mi ho sbagliato un'altra volta, io avevo capito, scusate, che, mettevo il codice, rimborso, io vi lasciava un biglietto, e io domani venivo qua col biglietto, e mi riprendevo i miei 50 euro, invece no, tu li ridavano subito, dovevi mettere la pompa, dove poterti rifornire, e io ho rimesso l'altra, e quella dei, camion, non ciò posso fare, adesso aspetto 6 minuti ancora, vediamo se ce la faccio questa volta, però metto la pompa 4, giuro, e se non ci sta nel serbatoio la benzina, vabbè, vabbè, ce la posso fare, tanto aspetto, a me piace la benzina, tantissimo, vabbè, potrei prendere qualche, non lo so, la testa, qualche minuto, potrei andare a lasciare quella macchina, e andare via in bicicletta, sicuramente, non ho bisogno di, non ho bisogno di, benzina o diesel, vabbè, la bicicletta, con la borraccia, lo zainetto, ho tutto, sono a posto, non ho problemi, e io non ho fame, no, lo sapete cos'è? è la maledizione dello shopping colpulsivo, è quella, ve lo dico io, no, vabbè, se è uscito, 10, 9, 72, 83, 409, allora, oh, cazzo, è partito, si è staccato, perché? ok, ok, immaginare, l'importo accettato, bonta, questa volta, 4, il signore mi ha preso per pazzo, il signore mi ha preso per pazzo, vado, non lo posso fare, wow, 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 questa volta, vittoria, adesso c'è da sperare che ci sia tutto nel fermatorio, e poi si è fuoco a posto, comunque, il signore l'ho detto, c'era un signore che ha benzinato il camion, e mi ha chiesto la ricevuta, che ero uscita insieme al mio codice rimborso, e ho detto, questa è la sua, questo è il mio codice rimborso, per la seconda volta, ma io, ma ce la posso fare, si dice, non c'è due senza tre, il quattro viene da sé, ma direi che questa volta passano due, e va bene, ci siamo quasi, va bene, ok, fatto, fatto, l'importo c'è, guardate, l'importo c'è, ok, lasciamo scolare, non so, mi hanno sempre detto che bisognava lasciare scolare, e poi, mani nere, che schiurezza, ragazzi ce l'ho fatta, saliamo, e andiamo a casa, ciao, questi, così, li tengo, così, per ricordo,